Ben tornati ad un nuovo appuntamento con EnjoyTG, l'unico telegiornale del mondo della notte all'interno di Enjoy Television. Questa settimana iniziamo parlandovi ancora una volta di David Guetta. Come vi avevamo annunciato in passato, David Guetta era stato nominato per 5 Grammy Awards alla 52esima edizione dei Grammy Awards. Il 31 gennaio 2010 se ne è caparrato uno come Best Remixed Recordings per Love Takes Over, la canzone che vede protagonista Kelly Rowland, ex Destiny's Child, che ha spopolato in tutto il mondo nell'estate 2009. Per celebrare 20 anni di carriera il DJ di punta della Purple Music, Jamie Lewis ha deciso di regalarci un nuovo album, si intitola Flashback. Il formato sarà disponibile in 3 CD o 3 vinili. Per maggiori informazioni sulla data precisa di uscita vi consigliamo www.purplemusic.ch. Il mondo della televisione commerciale sta dando sempre più spazio al mondo della notte e ai suoi protagonisti. Dopo aver ospitato Bob Sinclair il 24 febbraio 2010, il Chiambretti Night ospiterà un duo Anane Vega e Little Louie Vega, che tutti noi conosciamo molto bene perché è sempre protagonista nelle puntate di Enjoy Television. Quindi un appuntamento assolutamente da non perdere, sperando che questa volta Chiambretti faccia delle domande un po' più inerenti alla carriera del DJ. La Winter Music Conference 2010 è sempre più vicina e quindi noi di Enjoy Television continuiamo a segnalarvi le feste più belle che sono assolutamente imperdibili. Questa volta è la volta di MN2S che per festeggiare 15 anni di attività il 26 di marzo festeggerà con una grande festa con moltissimi DJ a partire dagli italiani Alex Gaudino, Gioti Vannelli, Martin Solveig e tanti altri al Clunch. Quindi assolutamente se non volete perdervi la festa vi consigliamo di andare sul sito www.wintermusicconference.com nella sezione The List. Ed anche per questa settimana è tutto, vi ricordiamo che se vi siete persi una puntata di Enjoy Television oppure semplicemente volete rivederne una, è semplicissimo, basta che andiate sul nostro canale di YouTube www.youtube.com slash Enjoy Television, lì troverete tutte le puntate aggiornate con i servizi aggiornati, un sito che ci sta dando molte soddisfazioni, infatti siamo arrivati a essere tra i primi 50 siti più visitati d'Italia e dopo questo buon weekend a tutti, ciao!